Il Ponzacco torna alla vittoria dopo il passo farso di Lucca, siamo con il direttore sportivo Andrea Luperini. Andrea, come hai visto la partita di oggi? È stata una partita con i doppi sensi. Dopo aver fatto il primo e il secondo gol, sembrava una partita chiusa, che potevamo anche largamente vincere, perché abbiamo avuto l'occasione di andare sul 3-0. Ovvero, la signorina si è inventata un calcio di rigore che io penso che, rivedendo le immagini, ce lo dimostreranno, ci ha complicato la vita perché hanno riaperto la partita, al secondo tempo il vento contrario ci ha messo in difficoltà. Abbiamo, è vero, sì, sferato la terza rete per la sicurezza, ma ci ha messo in grossa difficoltà. Era importante vincere, abbiamo vinto, perché per questo dobbiamo ancora inseguire il Pietrasanta Marina, che oggi anche pure in dieci ha vinto 2-0, ma siamo anche consapevoli della nostra forza e possiamo tranquillamente rincorrere il Pietrasanta. La squadra rispetto alla scorsa partita è sembrata partire subito a mille, poi hai detto bene tu, il rigore inesistente dato dall'arbitro ha complicato un po' la strada. In attesa di altri sviluppi, come abbiamo visto sulle cronache di questi giorni. Sì, a parte gli sviluppi della Fortis, che domenica purtroppo siamo andati a perdere una partita, io penso che forse nel calcio ne succedono pochissimi di questi episodi, una partita dove noi abbiamo fatto poco, ma che meritare sinceramente la sconfitta, era giusto anche il pari, finiva così, un errore ci ha condannato. C'è un ricorso in atto, la società a nome del Presidente e tramite l'Avvocato sta facendo ricorso su questa partita perché si presume e si pensa che non avrebbe potuto giocare la partita che ha giocato contro di noi. Ecco, la domenica il Pietrasanta va a Larciano, Ponzacco va a Quarrata, rientrano Tamberi e Pagano dall'Effettivi. E' un Bortoletti rientrato quest'oggi che a mio avviso sono tra i migliori in campo. Sì, il rientro di Pagano, magari avere Tamberi con qualche minuto in più nelle gambe e quindi che ci può dare qualcosa in più sicuramente ci dà sostanza. Perdiamo Di Galdo per squalifica, ma pensiamo di riprendere Barzotti. Niente, Bortoletti si sa che quando sta bene e quando è nelle sue condizioni penso che sia un giocatore che dà tanto dal cuore per questa squadra qui e lo sappiamo, è un uomo in più, un valore aggiunto. Per concludere, uno stadio che oggi è tornato un po' a essere la vecchia Borgia di Ponzacco, specialmente nel primo tempo e anche nel finale di partita. Sì, ma sai, io ci sono stato cinque anni qui e quindi so cosa vuol dire giocare a Ponzacco e avere il pubblico di Ponzacco che ti dà una mano. Il pubblico di Ponzacco è strano, si sa, non si accontenta mai, però quando è il momento di aiutarti ti aiuta e ti dà una mano come ha fatto oggi perché alla fine ha visto la difficoltà del vento contrario, il risultato in bilico, non riuscivamo a fare il terzo gol, ci ha dato una grossa mano, hanno incitato i ragazzi per tutta la partita fino a che non ha fischiato la fine e tutti i ragazzi sono corsi verso di loro, sono cose che sinceramente in queste categorie se ne vedono poche.